L'Optimist Club di Reggio Calabria, nato nel 1966, inaugura oggi la 172esima stanza tutta per sé in Italia. Questa è la seconda, dopo quella di Locri, inaugurata appunto nel tre anni fa. In quanto alla donna, deve essere tutelata assolutamente nel momento in cui finalmente assume la decisione fondamentale di rinunciare. E queste stanze tutto per sé sono l'ambiente ideale, in quanto confortevoli, sombrie, anche i colori sono stati scelti appositamente per dare un senso di rassicurazione e di serenità a una donna che finalmente ha scelto di fare questo passo così importante. L'arma dei Carabinieri porta avanti con i Soroptimist ormai da anni, è un importante segnale per ribadire ancora una volta l'impegno dell'arma, dei Carabinieri e di tutti i militari che ad essa appartengono, a contrastare ogni forma di violenza di genere. Grazie.